Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi classico appuntamento riappellogativo per mostrarvi i miei acquisti Blu-ray, i miei acquisti on video del mese di giugno. Non ho comprato niente di particolare, nessuna edizione speciale, nessuna stickbook particolare. Sono tutta maerei di titoli che ci tenevo a recuperare perché mi mancavano in collezione e molti di questi titoli che vi presenterò non li ho neanche mai visti. Per cui sono davvero curiosissimo di vederli. Cominciamo subito con alcuni titoli che ho riperito a IBS a 5 euro, in una promozione che è scaduta qualche tempo fa, con un film che io in realtà ho già visto, non lo rivedo da tanto tempo perché è passato un bel po' di tempo da quando è uscito nelle sale. Sto parlando del film Claude Atlas, è un film di fantascienza atipico che dura un'eternità, dura tantissimo, quasi tre ore, infatti la durata è 172 minuti, del film diretto dai fratelli o dalle sorelle Wachowski con il regista tedesco mi sembra, Tom Fink Wheeler. È un film particolarissimo, stranissimo perché ci sono varie linee temporali, vari intrecci ed è un film da seguire con attenzione perché sennò si rischia di perdere qualche connessione. È particolarissimo, davvero ve lo straconsiglio. Nel cast troviamo Tom Hanks, Halle Berry, Danny DeVito, Hugo Wewing e tanti volti noti del cinema hollywoodiano. Questa qui è un'edizione targata il collezionista, quindi dalla Eagle Pictures, ed è un'edizione combo perché all'interno c'è il Blu-ray e il DVD del film. Contenuti speciali in realtà qui non vengono riportati e non ci dovrebbero essere più di tanto, davvero tanti intrecci e sembra praticamente un precursore, con le dovute proporzioni ovviamente, della serie Sense8 perché ci sono alcune cose che ritornano e che collegano, diciamo, quest'opera qui, Cloud Atlas, con Sense8, la serie Netflix dei fratelli Wachowski. Quindi ci sono alcune analogie tra queste due opere. A Marei, rigorosamente nera come vuole la linea e il collezionista, e all'interno troviamo il DVD e il Blu-ray del film. Molto bello, combina fantascienza, dramma, mistero, azione, romanticismo, un film epico, che però ha il neo che dura davvero un'eternità per cui non tutti sono in grado di vedere un film così lungo e apprezzarlo fino in fondo, per cui se non vi piacciono i film science fiction, se non vi piacciono i film misteri particolari, insomma un po' atipici, questo film non fa per voi. Quindi può anche non piacere come film, onestamente. Conosco molti che l'hanno odiato un po' come lungometraggio perché dura davvero tanto e in alcuni casi è un po' ridondante e soporifero. Claude Atlas. Adesso passiamo a Balla coi lupi. Questo in realtà io ragazzi non l'ho mai visto. È un cult movie diretto interpretato da Kevin Costner, ma non l'ho mai visto. È vincitore di sette premi Oscar, e quindi è uno di quei filmoni che in teoria almeno uno nella vita dovrebbe aver visto, ma in realtà non l'ho mai visto in vita mia. Anche questo è un altro film che dura un casino. Dura 234 minuti perché questo qui dovrebbe essere la versione lunga director's cut. È la versione integrale che dura ben quasi 4 ore. E sono curiosissimo. Mai visto, ho sempre avuto dei pregiudizi un po' così su questo lungometraggio qui perché dura letteralmente un casino. Questa qui è la versione integrale che dura quasi 4 ore, ma l'edizione normale, diciamo cinematografica, dura anche quella più o meno 3 ore. Per cui si parla di un film, di un colossal che dura un bel po' di tempo. E quindi ho sempre avuto un po' di scetticismo nel vedere questo lungometraggio qui. Però anche questo ho pagato 5 euro in promo IBS ed è un film cult. Ho detto, beh, aggiungiamolo in collezione perché mi manca e sicuramente sarà un ottimo film. Vinse i 7 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora, miglior sonoro, sceneggiatura non originale. È un film del 1990, quindi ha quasi la mità come film ed è un cult del cinema americano, un colossal vecchia scuola. Ci sono alcuni contenuti speciali interessanti, il commento audio del regista, il trailer, lo speciale Balla con i lupi, lo speciale Kevin Costner, il backstage, l'intervista e i crediti. Ovviamente fa parte della linea il collezionista, per cui ha la cover nera e oltre al Blu-ray c'è il DVD del film di Balla con i lupi. Adesso passiamo al terzo e ultimo titolo che ho comprato in promo IBS a 5 euro ed è un film che non rivedo dal periodo della scuola perché lo vedi proiettato tipo in una congestione o comunque proiettato dalla professoressa perché è un film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e in particolare è un film che parla dell'assedio nazista Stalingrado per cui vede opposte le linee russe contro quelle naziste nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e quindi parla della resistenza dei soldati russi per allontanare i tedeschi dalla capitale russa. Il film in questione è Il nemico alle porte, sempre della linea Il collezionista della Eagle Pictures ed è un filmone perché nel cast troviamo Jules Lowe e Derris e Joseph Fiennes un film diretto dal francese Jean-Jacques Annot noto per aver diretto Il nome della rosa. Poi va bene nel cast troviamo anche Rachel Weisz e Bob Hopkins. Qui dietro non ci sono segnati contenuti speciali quindi anche in questo caso ipotizzo che non ci sia nessun contributo, nessun contenuto speciale in questa edizione qui. Adesso lo andiamo ad aprire. Eccolo qui. Troviamo il Blu-ray e poi questo promo sul Professore Il Pazzo e City of Lies. E qui invece troviamo il DVD del film Il nemico alle porte. Bellissimo film di guerra ambientato nel 1942 quando i nazisti erano proprio alle porte della capitale, alla capitale russa Stalingrado. Sono curioso, a me questi film ambientati nel periodo della Seconda Guerra Mondiale mi piacciono quindi sono davvero curioso di rivedermelo. È uno di quei film che di solito le professoresse di storia, l'italiano, fanno vedere tipo in quinta superiore per presentare alcuni aspetti interessanti della Seconda Guerra Mondiale per mostrare anche tutte le parti crude e brutte della Seconda Guerra Mondiale. Adesso passiamo a un film con recuperato ad una cifra bassissima tipo 4-5 euro su Amazon. Speravo che mi arrivasse con la sleep cover ma è arrivato senza proprio me ne farò una ragione. Il film in questione è Steve Jobs di Danny Boyle scritto da Aaron Sorkin. È un film con un grandissimo cast che ovviamente parla del cofondatore della Apple, Steve Jobs. Infatti quando si parla di alcuni uomini rivoluzionari dal punto di vista tecnologico Steve Jobs generalmente è uno di quei personaggi che entrano nella top 10 perché è stato davvero un visionario della tecnologia e è uno degli uomini più influenti del passato secolo. Ha lasciato un'eredità immensa e se non ricordo male Aaron Sorkin per questo biopic si è concentrato prevalentemente su tre linee temporali su tre parti importanti della vita di Jobs. Tre piani importanti che cercano di far luce e comunque di raccontare Steve Jobs sia dal punto di vista umano e sia anche per mostrare tutte le peculiarità visionarie di questa figura imponente di questa figura eccentrica particolarissima per cui è stato molto bravo Sorkin a rendere in due ore a condensare in due ore una vita così ricca piena di fatti interessanti e di delineare una figura a tutto tondo e a mettere in mostra tutte quelle caratteristiche che sono essenziali e tutte quelle caratteristiche importanti per rendere omaggio a una delle figure più importanti dal punto di vista tecnologico degli ultimi 50 anni. Il film è molto bello secondo me non viene tanto osannato anche perché avviene dopo The Social Network di David Fincher sempre scritto da Arnold Sorkin e sotto certi aspetti a livello di sceneggiatura ci sono molte analogie tra The Social Network e Steve Jobs diciamo che forse The Social Network è più riuscita come sceneggiatura rende molto meglio la figura di Mark Zuckerberg quindi diciamo è una storia che prende molto di più rispetto a questa qui questo lungometraggio qui non sempre riesce ad appagare allo spettatore perché come ho detto prima si concentra su alcuni aspetti particolari della vita di Steve Jobs in particolare il rapporto con la tecnologia e il rapporto anche che ha avuto con la figlia quindi vuole mostrare prevalentemente la natura umana l'uomo Steve Jobs anziché l'aspetto visionario di figura mitologica o di figura rivoluzionaria rivoluzionaria nell'ambito tecnologico quindi si concentra prevalentemente sulla controversia sulla figlia e quindi diciamo queste tre linee temporali servono a avere un arco complessivo che racconta il rapporto padre figlia diciamo che Sorkin ha sempre quell'aspetto cinico per cui rende molto bene sia Zuckerberg che sia Steve Jobs quindi non nasconde la polvere sotto i tappeti e mostra queste personalità forti anche in loro in alcuni momenti non proprio idilliaci ci sono alcune parti belle controverse e alcune parti molto forti che mettono anche in mostra il genio e la regolatezza anche gli aspetti diciamo da stronzo di una figura così eccentrica e particolare del film su Steve Jobs fu anche realizzato il film biografico Jobs con Aaron Kutcher e quel film lì si focalizzava prevalentemente più sugli aspetti visionari di questo sugli aspetti visionari di Steve Jobs mentre questo film qui invece vuole puntare più rifletture sugli aspetti umani sulla relazione padre figlia e niente il film a me piace non lo rivedo da un bel po' di tempo ha un cast incredibile perché Steve Jobs è interpretato da Michael Fassbender poi nel cast troviamo Seth Rogen nei panni del co-fondatore della Apple insieme a Steve Jobs Jeff Daniels e Kate Winslet ci sono alcuni contenuti speciali interessanti oltre 40 minuti adesso andiamo ad aprire edizione Amarei semplice con un disco blu-ray Steve Jobs diretto da Danny Boyle Jobs Steve Jobs continuiamo con La ballata dell'odio e dell'amore è un bellissimo film ragazzi questo qui forse è poco noto agli amanti del cinema mainstream è un bellissimo film di genere particolarissimo molto grottesco come film diretto da un regista spagnolo che io adoro che è Alex della Iglesias e me ne sono innamorato adoro questo film qui particolarissimo l'edizione qui è un'edizione Amarei semplice in blu-ray con l'unico contributo speciale che è lo spot originale ecco qui edizione blu-ray a disco singolo la ballata dell'odio e dell'amore ve lo straconsiglio è davvero un bellissimo film folle non saprei neanche come definirlo è proprio un film folle con delle scene che spiazzano che spiazzano e il film sembra quasi un carosello di follia con questi pagliacci con queste maschere con questi artisti è molto inquietante non è propriamente un horror ma è un film bizzarro adesso passiamo a un film di Spike Lee in amarei che non ho mai visto ma volevo recuperare perché sembra uno di quei film di quelle commedie un po' così simpatiche divertenti il film è Mo Better Blues con Tenzel Washington e Wesley Slipes e ci dovrebbe essere anche Spike Lee in una particina attoriale dunque qui dietro non vengono riportati nessun contenuto speciale quindi deduco che il film non abbia nessun extra al suo interno è solamente un disco blu-ray su un film che ovviamente parla di jazz che parla di musica è un film che parla dell'amore di Spike Lee della musica blues infatti il protagonista è un trombettista di talento sono curiosissimo sono curiosissimo di vederlo Mo Better Blues poi passiamo a un recupero che ho fatto a un euro sono andato a fare una capatina tanto per vedere che fine abbia fatto e ho recuperato sempre in promozione 80% il film di Mel Gibson La Battaglia di Oxon Ridge un film che io vidi al cinema quando usci nelle sale molto bello sulla seconda guerra mondiale in 4k ed è una storia molto particolare perché si focalizza su un soldato statunitense che però era un obiettore di coscienza è stato definito il primo obiettore di coscienza ed è praticamente la storia vera di Desmond Doss interpretato nel lungometraggio da Andrew Garfield riuscì pur non imbracciando mai un'arma a salvare 75 persone nella battaglia Okinawa che è una delle più sanguinose della storia della seconda guerra mondiale e senza uccidere nessuno e salvandosi la pelle quindi è stato davvero un personaggio incredibile della seconda guerra mondiale ed è diventato praticamente un eroe tutti negli Stati Uniti conoscono il nome di Desmond Doss ecco qua Amarei Total Black con all'interno sì solamente un disco 4k curiosissima come cosa è un film edito dalla Eagle Picture che di solito è abituata ai combo in questo caso qui c'è solamente il disco Ultra HD in HDR per cui sono anche curioso di vedere come sarà la resa visiva di questo film di guerra e adesso passiamo ad un altro titolo 4k che in realtà lo voleva vedere mio papà ed è uno di quei film tipo lo squalo in cui troviamo appunto una creatura mostruosa del mondo marino che si scontra con gli umani per cui c'è l'eterno scontro natura e uomo animale e uomo il film in questione Shark è il primo squalo e dovrebbe essere focalizzato sul primo squalo tipo un megalodonte una sorta di squalo preistorico che si scontra con un oceanografo questa qui è un'edizione Amarei 4k più Blu-ray con slipcover a me non fanno proprio impazzire questi film qui a parte lo squalo tutto il resto l'ho trovato un pochino un po' una scopiazzatura dell'immenso film cult di Spielberg però a mio papà questi film piacciono perché sono comunque film di azione di pura adrenalina che si vedono così di puro intrattenimento giusto per passare un po' di tempo e per passare una serata davanti alla televisione c'è la slipcover e qua troviamo la Marei Nera con all'interno il Blu-ray e il disco 4k non ci sono neanche tanti contenuti speciali perché c'è solamente Creating the Beast e il Making of di Meg infatti il titolo originale del film è Meg abbbreviazione di Megalodonte Shark il primo squalo adesso passiamo agli ultimi due titoli questo qui è un film che ho comprato da Zavi quando c'è stato in promozione infatti ho comprato diverse cosucce dalla Zavi che vi mostrerò pian piano prossimamente perché ho comprato in offerta delle cose interessantissime che andremo ad unboxare poi singolarmente nei prossimi video più avanti però ci tenevo a mostrarvi questa edizione qui di Ladri di Biciclette uno dei film più importanti del cinema neorealista italiano un film diretto dal nostro Vittorio De Sica un film che vinse l'Oscar nel 49 questa qui è l'edizione a Marei targata Arrow ovviamente con audio italiano perché è un film girato in audio italiano con alcuni contenuti speciali molto molto interessanti tra l'altro ci sono due documentari che mi interessano molto uno è un documentario diretto da Carlo Rizzani sul diciamo sul papà del neorealismo sul diciamo sull'intellettuale che ha dato vita all'intero movimento neorealista italiano ovvero Carlo Zavattini e poi c'è un documentario che è un documentario che si focalizza sull'immenso regista italiano Vittorio De Sica e quindi sono curiosissimo di vedere poi ci sono altri contenuti speciali interessanti e ci sono anche dei trailer sul film e sul diciamo sul film seguito di Vittorio De Sica che è Miracolo Milano che è un altro bellissimo film che vi consiglio di recuperare lo vedo dai tempi dei miei studi d'anziani ed è un film davvero immenso neorealismo puro in cui troviamo il nostro protagonista che con la sua bicicletta lavora nel mondo diciamo cinematografico perché va a attaccare in giro i poster del cinema quindi un film da vedere a tutti i costi e sono curioso di vedere questo master qui della Arrow perché di solito la Arrow ci ha abituati bene e i suoi master video sono davvero il top ecco qua Marei con un disco in Blu-ray e poi troviamo la copertina reversibile perché questa qui è la copertina diciamo inglese internazionale e poi come fa l'Arrow di solito ed è una cosa che io apprezzo tantissimo ci mettono anche la cover diciamo italiana con la scritta italiana e la delle biciclette perché essendo un film italiano con la lingua italiana loro mettono la doppia cover double face internazionale inglese e italiana del paese d'origine la Arrow come al solito fa dei lavori a regola d'arte io per esempio prediligo l'artwork originale italiano per cui la terrò così ladere di biciclette vi consiglio caldamente di vederlo perché questo qui è uno dei nostri capolavori della nostra cinematografia ed è un film da vedere a tutti i costi ragazzi davvero poi dura anche pochissimo dura neanche un'ora e mezza per cui è da vedere a tutti i costi dalle biciclette adesso passiamo all'ultimo film è un'edizione francese di un film che non ho mai visto è un'edizione molto bella del il caso il caso Thomas Crone con Steve McQueen e Faye Dunaway questa qui è un'edizione francese con all'interno audio italiano un'edizione interessante molto carina che però purtroppo non ha tanti contenuti speciali anzi praticamente a parte il commento audio il trailer non ha nessun contenuto speciale però mi mancava in collezione un film cult che non ho mai visto trovandolo in promozione su Amazon a tipo 13 euro l'ho aggiunto volentieri già che ci sono vi ricordo che io ho un gruppo Telegram dove segnalo tutti questi cali di offerte queste offerte che possiamo trovare su IBS su Amazon per cui vi consiglio caldamente iscrivervi a questo gruppo qui Telegram che potete leggere qui sotto per rimanere aggiornati sulle varie promozioni che ci sono sui vari store online prevalentemente su Amazon perché è lo store ormai di riferimento per il mercato un video italiano comunque andiamo a aprire questa edizione qui francese ecco qui troviamo due dischi il DVD e il Blu-ray del film e poi qui troviamo spillato un booklet che rispetto alle altre edizioni simili è proprio scarno ed ha una relegatura un po' particolare ecco qui il caso Thomas Crone peccato che sia interamente scritto in francese ma comunque è un booklet molto scarno che parla del film delle sue peculiarità qui troviamo la filmografia dei due personaggi principali ovvero Steve McQueen e Fade Dunaway ed ecco qui davvero molto scarno come booklet però rimane un'edizione molto carina da aggiungere in collezione a me il formato digibook piace assai è molto carina è un film che mi mancava in collezione per cui l'ho aggiunto ben più che volentieri bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione di questo video acquisti blu ray del mese di giugno non sono tantissimi i titoli generalmente compro molto di più ma ho speso tantissimo per altre cose perfumetti e varie varie cose per cui questo mese mi sono concentrato prevalentemente su pochi prodotti d'autore tutti presi in promozione sono pochi ma buoni penso fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei miei acquisti e scrivetemi tutto qui sotto io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video a presto